L'ingegner Gianfranco Lopane è candidato al Consiglio regionale pugliese nella lista con Emiliano. Vedete il simbolo, appunto un cerchio giallo con la scritta con Emiliano. Il significato del suo schierarsi in questa lista? Credo che questo nuovo progetto, lanciato appena un anno fa da Michele Emiliano, sia un progetto a supporto del centrosinistro, un progetto che nel suo titolo ha il contenuto del significato politico, con significa inclusione, con significa stare dalla parte dei cittadini, con significa comprendere tutta una serie di progettualità e di idee che possono far bene alla Puglia e alla provincia di Taranto. Io credo che questo nuovo contenitore possa essere un supporto importante nel centrosinistra, possa far bene anche ai partiti tradizionali del centrosinistra in una nuova ottica, una nuova ottica che deve permettere ai partiti di aprirsi a movimenti, a circoli, a singoli cittadini, perché abbiamo bisogno di una nuova partecipazione e anche attraverso le liste civiche questo è possibile. Non dobbiamo semplicemente pensare ai partiti come un museo delle vecchie glorie, ma dobbiamo cercare di stare nelle piazze, dobbiamo stare fra i cittadini, perché abbiamo bisogno di rimotivarli alla partecipazione attiva. E credo che il progetto CON punti soprattutto a questo.